Per le donne in gravidanza le gioie a tavola si restringono notevolmente, ma le accortezze sono necessarie per evitare spiacevoli problemi di salute al feto. Esistono cibi che è bene evitare del tutto e altri il cui consumo deve essere moderato. Rinfresca la memoria su quali alimenti sarebbe bene non assumere in dolce attesa, grazie a questo breve video. Sei già in allattamento? Molte regole non valgono più. Scopri quali. Continua a leggere. Il tuo browser non può visualizzare questo video-video di Chiara Rota le proprietà dei funghi. I funghi sono un cibo prelibato, ma dal gusto particolare che non ha tutte va a genio. Sono sicuramente versatili e li puoi utilizzare in cucina in diverse preparazioni, da soli, come contorno sfizioso anche come ingrediente. Di primi ghiotti, come i risotti. Tuttavia, quando si ha in momenti particolari della vita come la gravidanza o l'allattamento, viene naturale chiedersi se certi cibi siano da evitare per non dare fastidio al bambino. E tra questi, i funghi sono in cima alla lista. Prima di capire se è possibile mangiare i funghi in allattamento, scopriamo quali proprietà hanno e se possono apportare dei benefici. Dal punto di vista nutrizionale alla mamma e al bebè, se assunti in questa fase, le neomamme fanno bene a soffermarsi e a riflettere prima di buttarsi su un piatto di tagliatelle ai porcini, perché i funghi sono un alimento veramente particolare. Non sono né dei vegetali, né animali e di fatto appartengono a una specie che è solo loro, quella appunto dei funghi. Dove troviamo anche le muffe e i lieviti? Crescono un po' ovunque, anche se amano popolare i boschi, e ne esistono di differenti varietà, di cui alcune non commestibili. Quelle tipologie non pericolose per l'uomo sono comunque delle sane stiziosità, contengono pochi grassi e contano poche calorie. Come nutrienti troviamo i carboidrati e le proteine, ma anche alcune fibre e vitamine, A, D, B, oltre che fosforo, selenio, ferro e calcio. Da un punto di vista nutrizionale, quindi, nulla da dire. Ma in allattamento come è meglio comportarsi con i funghi? Si possono mangiare tranquillamente? Vedi anche funghi in gravidanza, si possono mangiare o meglio evitarli? Rimanere incinta a 40 anni. Il punto sulla fertilità femminile over 40 Alimentazione in allattamento. Cosa mangiare e cosa evitare? Funghi in allattamento, sì o no? Partiamo col dire che rispetto alla gravidanza la fase dell'allattamento è caratterizzata da più libertà sotto l'aspetto alimentare. I funghi non rietrano tra gli alimenti pericolosi da tenere d'occhio nei nove mesi di attesa, purché il consumo rimanga moderato in piccole porzioni, e soprattutto che l'assunzione avvenga esclusivamente dopo una buona cottura. Un fungo crudo è assolutamente da evitare in gestazione, per evitare intossicazioni o avvelenamenti e per non contrarre il batterio. L'isteria monocytogenis, che può portare a gravi conseguenze sul feto. Anche in allattamento non vi è alcun problema a mangiare funghi. Secondo gli esperti potrebbe però esserci un rifiuto da parte del bebè, perché i funghi alterano il sapore del latte materno, un po' come il gorgonzola, che è possibile trovarlo in tante stiziose ricette, ma che non a tutti piace e in allattamento può dare fastidio al piccolo, semplicemente perché non ama il suo sapore attraverso il latte. Vuoi sapere di più su questo argomento? Leggi il nostro articolo su gorgonzola e allattamento. Altri alimenti che svolgono un'azione analoga sul latte della mamma sono l'aglio, le cipolle, gli asparagi, i cavoli e i carciofi, solo per citarne i principali. La decisione di consumarli lo stesso mentre sei alle prese con i primi mesi di allattamento è esclusivamente tua, c'è chi consiglia di evitarli, limitarli, ma specifica anche che i bimbi si adattano in fretta a nuovi sapori. Se ami i funghi, puoi provare con un'introduzione graduale nella tua dieta e vedere come reagisce il bambino. Se non vedi cambiamenti di umore o disturbi al pancino, puoi continuare tranquillamente, tenendo a mente qualche accorgimento per il consumo sicuro. Come mangiare i funghi in sicurezza Come abbiamo detto in precedenza, i funghi sono un cibo molto particolare che cresce un po' ovunque, pertanto la loro provenienza non sempre è sicura e questo è uno dei pericoli principali nel mangiare funghi a tavola. I dubbi connessi ai funghi non riguardano tanto il consumo, quanto la modalità con cui vengono assunti. Ci sono delle precauzioni importanti che puoi mettere in atto quando decidi di mangiarne un po', sia in allattamento che nella vita di tutti i giorni. Punto primo, comprali da enti certificati e garantiti. Evita l'acquisto da persone che li raccolgono solo per passione, perché la provenienza deve essere sempre verificata da un professionista, come un micologo. Analogamente non mangiare funghi che sono stati raccolti lungo le strade o in campi, non sai mai se sono stati utilizzati dei pesticidi. Se noti che non sembrano essere freschi, meglio lasciar perdere, per il tuo bene e per quello del neonato è sempre opportuno ingerirli. Quando si trovano in ottime condizioni e solo se solo stati ben cotti. Da valutare le conservazioni sott'olio, perché è sempre possibile lo sviluppo della tossina botulinica. Infine consumali entro i sei mesi dall'apertura e ricordati di sbollentarli un po' prima del congelamento. A tutte queste regolette ne va aggiunta un'ultima, che si rifà alla quantità giusta da assumere. Normalmente i funghi non devono eccedere in una dieta settimanale, e in particolare in allattamento, quando la dieta deve essere più che mai bilanciata e nutriente. Pertanto il consumo di funghi è consentito solo in quantità moderate. La dieta di una mamma che allatta L'ultimo punto trattato ci permette di aprire la strada a un argomento più ampio, ma comunque pertinente rispetto all'assunzione di funghi in allattamento. Quali altri alimenti può o deve mangiare una mamma che sta allattando un neonato al seno? Come deve essere composta la sua dieta? La risposta che mette d'accordo gli esperti del settore è che non esiste una dieta specifica per la mamma che allatta. Il regime alimentare può essere quello abituale, a patto che sia vario e che siano presenti i capisaldi della buona cucina, ovvero le verdure, le proteine e la frutta. In più non deve essere caratterizzato dagli eccessi, meglio scegliere l'equilibrio tra cibi, la scelta migliore per te e per il tuo bimbo. Una neomamma ha esigenze nutrizionali e caloriche differenti rispetto alla gravidanza e rispetto a una situazione di normalità. Circa 500 kg è l'in più al giorno nei primi mesi di allattamento. Se sei in questo periodo te ne sarai già accorta in partenza dalla prima o seconda settimana di allattamento, allattare richiede un grande dispendio di energie e di conseguenza anche la fama è maggiore, puoi mantenerti in forza incrementando le porzioni ai pasti, optando per spuntini più nutrienti, sempre facendolo in maniera equilibrata. Non dimenticarti di bere tanta acqua, anche due o tre litri al giorno, in questo modo aiuterai la produzione di latte che serve al tuo bebè per crescere sano e forte. Non c'è dieta che tenga senza un corretto stile di vita, per quanto ti senti stanca concediti sempre delle belle passeggiate assieme al tuo piccolo. Il movimento unito a una corretta nutrizione favorisce il passaggio dei giusti micronutrienti allattante e soprattutto ti permette di non mettere su altri chili di troppo, cose da evitare durante l'allattamento. Abbiamo appena visto che i funghi si possono tranquillamente mangiare quando si sta allattando al seno, ma possono esserci altri alimenti, a cui è bene stare attente, perché possono scatenare delle allergie nel piccolo, confrontati con il tuo pediatra perché le correnti di pensiero sono differenti. Alcuni sostengono che sia meglio non ingerire cibi di natura piccante come il pepe, il curry o il peperoncino e anche altri alimenti che sono potenzialmente allergizzanti. Vedi i molluschi, i crostacei, le fragole o la frutta secca. Secondo altri invece è possibile assumerne in quantità sempre maggiori per vedere le reazioni del bambino. Di certo ci sono alcune cose che in gravidanza e in allattamento dovrebbero essere evitate. Gli alcolici di ogni tipo, compresa la birra, e sostanze contenenti caffeina, qualcuno concede una o due tazze di caffè al giorno, ma adeguati alle reazioni di tuo figlio. Perché se noti che è troppo agitato, meglio lasciar perdere. Punto se non puoi farne a meno assicurati di berli lontani dalle poppate, almeno tre o quattro ore prima. Questi alimenti sconsigliati sono tali perché fanno passare le sostanze contenute al loro interno nel latte materno, ma a parte quelli elencati sopra che possono scatenare allergie, tutti gli altri alimenti non procurano fastidi al bimbo, se non alterazioni nel latte. Non credere a chi ti dirà che se mangi determinati alimenti in allattamento è più facile provocare le colite al tuo piccolo, non vi. E alcun fondamento scientifico riguardo questa cosa. Newsletter mandatory fields al femminile. Data controller, collects this data in order to send you personalized commercial communications, subject to your choices. To find out more about the management of your personal data and to exercise your rights, you can consult our personal data protection policy. Go consigli, news, curiosità e tanto altro. Più mostra le fonti, nascondi le fonti leggi di più sull'alimentazione per la mamma che allatta sul sito dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.